Grazie a tutti. Faremo una posizione concreta e pesante in Consiglio Comunale, ma sempre nei limiti della legalità. È stata una brutta campagna elettorale che speriamo in seguito non abbia ripercussioni. Mi auguro che questo tipo di campagne elettorali anche in seguito non abbiano più ad essere. Secondo lei cosa ha portato un voto così netto verso Spina a queste elezioni? Francesco è stato molto bravo nella comunicazione e nel far passare i suoi messaggi a differenza dei nostri. Bisogna dargli merito che ha strutturato le sue truppe quasi a livello militare e che hanno dato un ottimo risultato. La città le ha risposto e quindi è giusto che lui continui nella sua azione amministrativa.